ciao a tutti ciao simona izzi ciao a tutti i ragazzi ciao a giulia pozzuoli ciao a rosa a giardetti ciao a gerardo d'angelo come stai iniziamo con i soliti saluti in attesa che tutti vi connettiate a questa diretta oggi è un orario un po particolare perché poi avremo delle delle riunioni oggi abbiamo votato a distanza pur essendo qui presenti si vota a distanza perché per ragioni di sicurezza legate al coronavirus e ci sono tante cose da dire oggi saluto capilla scire saluto tonino martorana carmelo malacorda mariella marzullo come va piccola non so se io sarei la piccola comunque ringrazio mariella marzullo saluto il grande maurizio camilleri saluto massimo costanza nel frattempo stampo alcuni appunti che ho preso io e che mi ha che mi hanno spedito alcuni miei collaboratori su alcune delle cose che dobbiamo dire oggi ciao stefano sarcinelli ciao monica palmas ciao a maria razzanelli carissima ecco nel frattempo stampo un po di cose facciamo in modo da essere di più e poi partiamo con le cose da dire ciao tiziana faraci ciao patrizia vitale ciao a carmela pappada o pap si pappada pappada ciao lì di adorno grandissima ciao fabrizio cantoni a rosa sigillò che non vedo da tanto tempo rosa come vanno le cose ce l'hai sempre con i 5 stelle o hai cambiato idea perché rosa è un po un po una passionaria ciao a maria ferella longua ad andrea anello a rossela lo bianco carissima vediamo se riesco a stampare queste altre cose e poi ci siamo e poi partiamo vedete uscirò a stampare temo di no sì no non dire no no questa non c'entra oddio voi avete idea di quante email inutili riceva un euro parlamentare ciao claudio purpura grazie ciao rosanna romano ciao franco sardu ciao il grande salvo stancanelli allora 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 vediamo se qui possiamo andare e stampare ecco stampiamo anche questa e poi partiamo siamo a più di 2000 quindi grazie lega e cultura uno simoro per antonomasia scrivere la nostra portavoce al consiglio comunale di catania lì di adorno saluto miriam di paola come stai miriam che non vedo da tanto tempo saluto riccardo mureddo e lo ringrazio perché alcuni degli appunti di cui parlerò oggi me li ha dati proprio riccardo ve ne parlerò proprio perché ci tengo a insomma vediamo se qui si può stampare da qui ok no non si può stampare da qui ci siamo ragazzi siamo 2300 adesso partiamo ciao a mitamedici ciao ad angelo ciaiola ciao a tutti voi e adesso partiamo con 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 la diretta per le tante cose che abbiamo da dire liliana papale la vergogna di avere un assessore della identità siciliana pensate che della lega ora la lega nord ci ha chiamati perroni forza etna forza vesuvio il sud fa schifo e non solo in passato perché qualcuno dice no ma quella era la lega vecchia oggi la lega è diversa beh fino a un certo punto gianmarco centinaio aveva una casella di posta che si chiama terrons go home chiocciola non mi ricordo come e ricordo che la meloni e salvini proposero come presidente della repubblica vittorio feltri quello che dice che i meridionali noi meridionali siamo inferiori ricordo anche che quando si dice che i meridionali sono inferiori non si insultano i meridionali si insulta l'italia si insulta la patria si insultano tutti gli italiani perché lo stesso sarebbe se qualcuno dicesse che i settentrionali sono inferiori o che i veneti sono inferiori o che i pugliesi sono inferiori perché non è vero perché siamo un'unica patria e dobbiamo volere bene all'italia tutta intera da lampedusa linosa che credo siano i due comuni più a sud quello su diciamo della sicilia della grande isola e portopalo di capopassero quello più meridionale mi pare che lampedusa e linosa che comunque sono è un unico comune se ben ricordo lampedusa e linosa che sono proprio nel profondo sud nel canale di sicilia sono i più a sud e il più a nord dovrebbe essere adesso non mi ricordo se è bressanone merano insomma proprio al confine con l'austria perché dico questo perché la patria è una l'italia è una è un'unica nazione è molto diversa molto lunga molto particolare ma questa è sempre stata una ricchezza noi abbiamo la bellezza della sicilia della toscana della sardegna della puglia poi sembro salvini che fa gli elenchi 1 2 3 arriva a 49 sempre di venezia di roma di firenze di alcune delle città più belle del mondo napoli naturalmente catania siracusa abbiamo delle città particolarmente belle abbiamo una storia ricchissima abbiamo una parte importantissima del patrimonio artistico di tutto il mondo una parte altrettanto importante e forse la più importante del mondo anche per quel che riguarda il patrimonio naturalistico per quanto riguarda l'enogastronomia per altre mille cose voi mi dovete dire perché c'è qualcuno che deve dire che i meridionali sono inferiori e però ci sono due leader politici salvini matteo e giorgia meloni che dicono i meridionali che hanno proposto proprio vittorio feltri quello che dice che i meridionali sono inferiori come presidente della repubblica e naturalmente per fortuna non è stato eletto ma ha avuto se ben ricordo 56 voti 55 56 voti a quella elezione del presidente mattarella quella votazione di qualche anno fa allora noi scherziamo noi sorridiamo noi durante questa diretta ci parliamo di tante cose sono pronto a rispondere alle vostre domande le vostre osservazioni però poi dobbiamo anche riflettere su cosa si è diventata la politica se un assessore alla cultura identità siciliana è un leghista è proprio quel partito che ci ha sempre buttato fango addosso e questo non va bene allora oggi abbiamo tantissime cose di cui parlare però dobbiamo partire da una cosa importante domi paparella sono un ex momento 5 stelle convincimi del contrario ci proverò caro domi tiziana martini fa una battuta divertente la toscana è bellissima peccato ci abiti renzi grazie a paolo monaco grazie a grazie a scuto la nostra grande attivista di paterno e ce ne sono tanti c'è me la stella galati marco liguori marco pellizzari silvana dieni luigi antonio cesare allora ragazzi iniziamo davvero la diretta siamo già più di 3000 e quindi va bene così 3.100 parliamoci chiaro che è successo il video in diretta è terminato no io spero che mi vediate ancora qui mi dice che il video in diretta è terminato ma penso che stia scherzando allora parliamo di una cosa molto importante che riguarda la diretta di ieri quello che è accaduto ieri ieri come sapete ho iniziato la mia diretta ero molto amareggiato e la mia diretta ho deciso di interromperla a un certo punto perché non mi sentivo sinceramente di proseguire perché ho ricevuto delle pressioni molto brutte molto pesanti molto faticose da sostenere io benché come dire nella vita anche a causa della mia carriera precedente abbia imparato a parare i colpi abbia le spalle piuttosto larghe modestamente chiaramente sono una persona con i suoi sentimenti e fatico pure io sono più di 60 giorni che siamo qui a bruxelles in quarantena e tutti i giorni ho avuto un contatto con voi ho fatto una diretta in alcuni giorni due quando il presidente conte aveva delle cose straordinarie da dire quando succedeva qualcosa di particolare poi però chiaramente c'è un c'è un momento in cui anche la corda più robusta si può si può spezzare oppure si può anche sfilacciare e quindi ieri francamente non mi sentivo di andare avanti e di raccontarvi tutte le cose che avrei voluto raccontarvi perché ero di un animo molto negativo molto addolorato e vi spiegherò adesso il perché nel frattempo vi chiedo una cosa cosa che mi dimentico di fare ogni tanto e quindi ve la richiedo se vi piacciono queste dirette se vi interessa quello che io dico le verità che io cerco di raccontarvi condividetele già adesso sulla vostra pagina più le condividiamo più queste informazioni circolano vengono veicolate più è facile raccontare una verità alternativa da quella che ci raccontano i soliti giornali soliti programmi televisivi allora tantissimi di voi mi hanno scritto grazie tiziana martini tantissimi di voi mi hanno scritto e mi hanno detto ma cosa fai lasci il movimento no ti prego tu sei un guerriero non devi andare via sei un leone sei questo sei quello io sono una persona non lascio il movimento oggi vedete per entrare qui ho dovuto portare questo vediamo se ve lo faccio vedere dritto perché se no vi faccio leggere al contrario vedete questo qui è il mio è il mio tesserino e c'è scritto deputato al parlamento europeo 2019 2024 questo è il mio nome e questo è il mio volto io non sono non sono diventato deputato al parlamento europeo per caso o per un colpo di fortuna o perché sono stato calato dall'alto perché sono stato nominato al parlamento europeo ci si arriva con le preferenze quindi in questo posto adesso non ci sono io ci sono c'è la fiducia di 117.211 cittadini siciliani e sardi che hanno voluto dare la mia la loro fiducia a me e che mi hanno portato ad essere un portavoce al parlamento europeo grazie alla loro fiducia e quindi io devo ripagare questa fiducia io non posso certamente mollare come qualcuno ha temuto ha ipotizzato ci mancherebbe altro e non voglio e non posso e non devo andare assolutamente contro il movimento come sapete non l'ho mai fatto sfido chiunque a trovare un solo posto una sola riga un solo tweet che ne so io posto su facebook in cui io parlo male del movimento ma non è che non lo faccio perché sono uno yes man ho fatto delle critiche alla nostra azione politica ho fatto delle critiche alla nostra al nostro essere inconcludenti in rai ho fatto delle osservazioni critiche rispetto al fatto che secondo me le regole fondanti del movimento non devono mai essere in discussione non devono mai essere derogate perché derogare una regola come diceva già roberto casaleggio basta che deroghi una volta una regola è come se l'hai cancellata e la penso come lui quindi per carità non bisogna essere yes man ma bisogna essere fedeli alla forza politica che ti ha portato in questo caso nel mio caso in parlamento europeo nel caso di gianluigi paragone per esempio nel parlamento italiano al senato con la differenza che lui lì ci è arrivato anche solo grazie a adesso non mi ricordo tre quattrocento voti su russò io su russone ho presi 2.900 e su nel voto reale poi nelle preferenze come ho fatto vedere prima questo tesserino è frutto di 117.211 persone che hanno scritto il mio nome su una scheda elettorale quindi io non posso tradire queste persone non ne ho la minima intenzione e porterò fino in fondo fino a che mi sarà possibile in alto i valori morali etici politici e divisione del futuro del movimento 5 stelle lo faccio qui in europa quotidianamente nella difficilissima lotta che portiamo avanti con altri miei colleghi portavoce al parlamento europeo anche perché non siamo in un gruppo e quindi questo rende persino più complicata la nostra capacità di incidere eppure abbiamo fatto tanto siamo riusciti ad essere decisivi per l'elezione della nuova commissaria di Ursula von der Leyen e poi a fare i nostri emendamenti a fare le nostre battaglie alcune delle quali stanno andando avanti con un certo successo stiamo votando in questi giorni e su alcune delle cose anche legate al bilancio europeo io sono molto ottimista moderatamente moderatamente molto ottimista nel senso che so perfettamente che le soluzioni qui non si fanno in un giorno ma si fanno con la costanza però tutti mi state chiedendo ma perché ieri eri giù perché eri abbattuto che tipo di pressioni hai avuto ve lo dico in maniera molto semplice allora negli ultimi giorni c'è stata questa incredibile vicenda di una mia partecipazione al programma di massimo giletti non è l'arena nella quale io credo che massimo giletti e lo dico con il massimo rispetto per massimo giletti non sia stato imparziale ha ospitato giorgia meloni trattandola con i guanti bianchi e sorridendole senza mai interromperla avendo un atteggiamento molto conciliante io ho studiato comunicazione non sono uno improvvisato sulla comunicazione televisiva in particolare lo so come funziona il meccanismo psicologico della impressione che uno spettatore riceve da quello che vede in un talk show poi naturalmente ognuno ha le sue idee ma quando un leader politico viene vedete il conduttore di un programma televisivo ha un ruolo ha lo stesso ruolo che può avere un maestro un professore un prete in cui crediamo un padre di famiglia un nonno un saggio perché perché è la persona che ha che noi riconosciamo come autorità all'interno di un piccolo sistema se il sistema è un programma televisivo il conduttore è l'autorità che automaticamente il nostro cervello riconosce all'interno di quel sistema è chiaro quindi l'atteggiamento del conduttore è estremamente importante per l'impressione che il pubblico a casa si fa di quello che vede questo non lo dice dino giarrusso lo dice la scienza sappiate che anche la comunicazione è una scienza anche la comunicazione televisiva è una scienza e l'impatto che la comunicazione televisiva ha sul cervello sulla coscienza di ciascuno di noi è una è misurabile scientificamente funziona con dei meccanismi anzi vi assicuro che è una scienza più esatta di altre come per esempio l'economia che si basa soprattutto su previsioni e quindi che è è una scienza anch'essa ma la cui inesattezza definitiva è maggiore persino di quella che la scienza che studia la comunicazione i processi comunicativi i processi cognitivi la psicologia dei processi cognitivi e cioè quello che noi assimiliamo rispetto a ciò che vediamo dunque la figura del conduttore l'atteggiamento del conduttore sono particolarmente importanti perché è dal dall'atteggiamento che ha l'autorità che il pubblico riconosce e cioè il conduttore io ho fatto l'esempio di giletti ma vi ricordo bruno vespa vi ricordo mirta merlino vi ricordo floris vi ricordo porro vi ricordo chi c'è peter gomez nel suo programma anche se un programma un pochino diverso c'è la panella ci sta pancani la mattina ci sta gaia tortora ce ne sono mentana uno dei più importanti conduttori che abbiamo insomma abbiamo in italia diversi conduttori di show televisivi bianca berlinguer c'è stefania pinna la mia amica su sky che anzi una delle più ecco per esempio stefania pinna è un esempio a mio parere questa è un'opinione invece non è scienza è una delle più imparziali non ha un atteggiamento mai pregiudizievole in positivo o in negativo allora vi dicevo quando l'autorità riconosciuta all'interno di quel contenitore ha un atteggiamento il pubblico automaticamente riceve un messaggio che può essere fidati di questo politico fidati io ne parlo bene vedi come gli sorrido vedi come lo esalto vedi come gli faccio i complimenti vedi come sono gentile con lui significa che è affidabile quando al contrario il conduttore di uno show televisivo di un talk show politico ha un atteggiamento estremamente critico scocciato stufato affaticato negativo rispetto a un ospite lo interrompe gli parla sopra lo contraddice fa delle smorfie dice ma che dici ma no ma come ecco gli passa sopra non gli fa finire un concetto per cui lo rende più goffo lo rende gli rende più difficile esprimersi ecco quello è un atteggiamento che nello spettatore come dire incide negativamente che lo spettatore pensa ma questo qui non è uno bravo non è sicuro di sé è un mezzo cialtroni oppure è uno che non capisce bene come stanno le cose ma non sto capendo cosa dice certo perché se un conduttore ti interrompe è molto più difficile finire un concetto se un conduttore ti lascia parlare ti fa un sorriso ti dà magari la battuta che ti aiuta a definire un concetto ebbene tu sarai molto più bravo a esprimerti e quindi il pubblico avrà molta maggiore possibilità di apprezzare e assimilare il tuo messaggio questo naturalmente viene acuito quando ci sono gli applausi in questo periodo non ci sono perché il coronavirus rende vietato avere il pubblico in sala ma quando normalmente c'è uno show televisivo e spesso c'è il pubblico il pubblico applaude e spesso gli applausi sono in qualche modo piloti sempre sono in qualche modo pilotati comandati da un direttore di sala da un da una figura apposita che che gestisce un po' la situazione del pubblico per cui ed è dinamite quella lì perché se io parlo e il pubblico in sala alla fine del mio discorso applaude il pubblico a casa cioè le milioni di persone che guardano quel programma diranno ammazza vero bello bravo ha detto bene se nessuno applaude oppure se applaudono a quello che dice il contrario oppure addirittura se il pubblico rumoreggio e fa brusio beh oppure se finisco di parlare e nessuno applaude si dà l'idea di forse questo ha detto una cazzata forse questo ha detto una cosa non mi convince sta cosa l'applauso convince anche qui voi direte ma che ne sa di no già russo no anche questa è scienza ed è la ragione per cui quando vi ricordate eravamo ragazzini io ero ragazzino adesso non so c'erano i jeffersons c'erano arnold quei quei telefilm quelle mini serie no comiche happy days ma io ricordo in particolare i robinson i jeffersons arnold arnold c'erano le risate finte le risate registrate c'è anche in un film di woody allen che si chiama io enni c'è un suo amico che va a montare uno di questi show e c'è un addetto a mettere la risata mettere l'applauso quelle cose lì perché c'erano se ci pensate a che servivano perché sentire altre persone ridere anche se una risata finta artificiale registrata in teatro è messa lì convince il pubblico che quella cosa fa ridere e quindi fa apprezzare di più lo show fa apprezzare di più il telefilm se voi vedete una puntata di arnold di jeffersons di mor che mimbi adesso mi ricordo mi ricordo alcune di quelle serie con gli applausi con le risate finte e senza avrete un impatto completamente diverso le risate finte sono assolutamente utili a convincere il pubblico che quello che sta vedendo fa ridere allo stesso modo l'applauso in un talk show convince il pubblico che quel politico sta dicendo una cosa giusta il silenzio il brusio o la contraddizione del contraddizione del conduttore che un'autorità riconosciuta convince il pubblico e che quel politico sta dicendo una scemenza o qualcosa di poco convincente non vi voglio fare una lezione di comunicazione televisiva però vi vorrei far capire che dietro queste cose che vi dico non c'è la mia contravietà o la mia al mio favore nei confronti di un programma di una persona di un conduttore di una rete no non è così io non ce l'ho con nessuno io conosco quello di cui parlo perché ho fatto prima ho studiato questo per tanti anni all'università l'ho insegnato all'università e poi ho fatto la televisione in un programma molto importante come le Iene che ha un tipo di atteggiamento completamente diverso perché non c'è risata registrata non è un talk show però sappiamo perfettamente come funzionano determinati meccanismi per mandare determinati messaggi che cosa è successo è successo che alcune delle cose che io ho detto nei confronti di questo programma hanno dato fastidio e quindi sono arrivate delle pressioni sgradevoli vi dico la verità e allora io siccome vi devo dire come stanno le cose vi dico io non ho assolutamente nulla contro massimo giletti anzi ho sempre avuto un buon rapporto con massimo giletti qualche mese fa gli è mancato il papà purtroppo massimo giletti ha perso il padre e gli ho scritto naturalmente ho letto adesso in un'intervista che lui dolorosamente diceva la rai non mi ha manco fatto una telefonata naturalmente io sì perché è una persona con la quale ho sempre avuto un rapporto molto franco e molto leale benché credo che stia come dire impostando il suo show in maniera molto schiacciata su una determinata parte politica questo lo dico apertamente e sarei ipocrita se non lo dicessi ma la parte umana non c'entra nulla quando una persona ha un lutto quando una persona ha difficoltà bisogna stargli vicino soprattutto se è un collega se è una persona con la quale si ha un rapporto leale e io l'ho sempre avuto un rapporto leale con massimo giletti cosa è successo l'altra settimana quando sono andato ospite lui ha avuto un atteggiamento particolarmente oserei dire violento ma insomma duro nei confronti della mia parte politica del movimento 5 stelle di bona fede che non era presente ha fatto una sorta di processo io l'ho chiamato un agguato perché l'ha organizzato molto bene e vi assicuro che tutti quelli che fanno televisione dicono ammazza l'aveva infiocchettata proprio bene quella puntata perché è così e incredibilmente poco prima aveva ospitato giorgia meloni che era stata che era stata trattata come ho detto io dico che suonava il violino insomma con i guanti bianchi per non dire altro e incredibilmente quando poi chiamo di matteo chiamo bona fede eccetera addirittura ha tolto la parola bona fede per passare la parola abbriatore e io ho scritto semplicemente perché la verità che fra gli ospiti c'era martelli che ha confessato una di essere stato diciamo coinvolto in questa tangente da mezzo miliardo mezzo miliardo di lire una cifra molto importante nel periodo in cui un operaio guadagnava magari un milione di lire al mese lui aveva preso 500 milioni questa tangente era di 500 milioni no quasi quasi 50 anni di lavoro di un operaio in un'unica tangente ed era una tangente anche se fosse stata meno ricca la tangente è un grosso reato prendere tangenti finanziare illecitamente i partiti o se stessi è un drammatico doloroso e gravissimo reato eppure martelli sta lì pontifica va in tv magari ci sarà anche domenica prossima eccetera poi c'era la meloni il cui partito è pieno di indagati arrestati per mafia cosa che giletti non ha pensato di dirgli di chiedergli nulla e poi ha tolto la parola a un ministro della repubblica per darla a briatore che è stato un pregiudicato che a causa di una condanna per roba legata a gioco d'azzardo a bische clandestine è scappato dall'italia si è dato la latitanza internazionale mi sembra nelle isole vergini americane in un'isola che si chiama saint thomas e lì briatore ha passato la sua latitanza e poi è tornato in italia perché c'è stata un'amnistia una di quelle maledette io sono contrario agli indulti alle amnistie perché la costituzione parla di garanzie di garantismo quindi non si può condannare qualcuno tutti siamo innocenti fino a sentenza definitiva la stessa costituzione parla di certezza della pena se c'è una sentenza definitiva quella pena deve essere scontata e invece spesso e volentieri in qualche modo si fa in modo che i potenti soprattutto i politici corrotti politici condannati o imprenditori vicini ai politici le persone che si possono permettere avvocati importanti magari non scontano quella pena ottengono la prescrizione ottengono altri privilegi e quindi briatore è stato un latitante internazionale mi ha fatto impressione vedere la segretaria di un partito che ha al suo interno indagati e arrestati per mafia essere intervistata senza una parola su questo la l'ex ministro martelli che da parlamentare era stato coinvolto in questo affare pessimo di tangenti con mezzo miliardo di lire di tangente confessata che era lì a pontificare senza che nessuno gli chiedesse niente e briatore che è stato condannato è stato l'internazionale era lì a pontificare senza che nessuno gli dicesse niente con chi era arrabbiato giletti con me che sono sono incensurato e credo che stavo semplicemente riportando le ragioni di quello che ha fatto il ministro buona fede di quello che è successo perché tutti siamo scontenti che siano stati scarcerati o mandati ai domiciliari o appena alternative anche persone coinvolte i reati di mafia addirittura tre al 41 bis tutti siamo scontenti ma la cosa più giusta da fare per per lenire questa scontentezza è riparare questo problema e dire la verità sul perché si è arrivati a queste scarcerazioni e il perché si è arrivati a queste scarcerazioni non ha nulla a che fare con il ministro buona fede non ha nulla a che fare con l'azione di questo governo non ha nulla a che fare col cura italia non ha nulla a che fare nemmeno con la circolare di basentini a cui è stata data la colpa ma siccome basentini è dipendente di buona fede è colpa di buona fede ecco questo è inaccettabile perché era falso e io ho voluto soltanto sottolineare che fosse falso a proposito di falsi parliamo di altri due falsi uno è che di matteo ha telefonato perché io ho detto la parola trattativa ora io penso che procederò a querele perché anche oggi il fatto quotidiano dopo una mia smentita ha continuato a dire questa coglionata e cioè che di matteo ha telefonato perché io ho detto la parola trattativa questa è una leggenda di matteo non lo ha mai detto e di matteo a me al telefono mi ha detto esattamente il contrario mi ha detto guardi non ho chiamato per niente di quello che ha detto lei e non chiamo un programma televisivo per una parola o per un'altra ho chiamato perché stavate parlando di me ma siccome non sono stato io a tirare fuori l'argomento di matteo anche perché non sapevo sinceramente di quei contatti con buona fede ma sono stati proprio giletti e de magistris è vergognoso ed è un falso vergognoso che sia stato ancora una volta detto che questa cosa ha relazione con una mia parola con un mio intervento che cosa è successo poi che al programma alla settimana successiva sono stati invitati tutti gli stessi ospiti tranne me e al posto mio c'era sallusti pensate per equilibrare no dice non invitiamo già russo martelli confermato terese confermato capello maresca confermato de magistris confermato dice poi già russo no invitiamo sallusti al posto di già russo questo è il livello a proposito di par condicio di essere obiettivi invitiamo sallusti al posto di dino già da ridere o da piangere non so al posto di dino già russo sallusti ok allora siccome è stato invitato sallusti al posto mio io non c'ero non mi potevo difendere stavo guardando un film e mi è arrivata un messaggio di un di due nostri attivisti roberto cosentino e iole crivello che mi hanno detto entrambi guarda che giletti sta parlando di te perché giletti ha detto ma noi non c'entriamo di matteo ha chiamato perché l'euro parlamentare del 5 stelle dino già russo ha detto ha tirato in ballo la parola trattativa quello si è arrabbiato per la parola trattativa ha chiamato ed è falso e massimo giletti dovrebbe avere il coraggio di dire che questa cosa è falsa perché a me dà fastidio sono pienamente responsabile delle mie azioni io mi assumo pienamente le mie responsabilità se io commetto un errore un errore di valutazione un errore politico un qualunque tipo di errore anche grave io me ne assumo tutte le mie responsabilità ma non mi posso essere accusato di qualcosa che non è vera perché ripeto è stato il lo stesso di matteo che mi ha confermato più volte di persona che non ha chiamato per quel motivo allora capite perché mi sto arrabbiando dice ma che cosa è successo ieri che eri così giù da aver interrotto la diretta è successo che ho ricevuto delle pressioni più o meno evidenti rispetto alla mia presenza futura in tv eccetera cioè in qualche modo mi si dice se tu continui a fare così noi ti oscuriamo ok e questo chiaramente è un ricatto morale è una pressione molto brutta rispetto alla quale sto valutando come muovermi come comportarmi perché io ho rispetto di tutti io ho rispetto assoluto di dell'impostazione che ogni autore televisivo ogni conduttore ogni rete vuole dare a un suo programma ma siccome c'è la libertà di parola in questo paese c'è la libertà di parola e di pensiero nel mio caso è addirittura doppiamente tutelata in quanto sono parlamentare europeo ma anche se fossi anche tutti i cittadini dal primo all'ultimo sono uguali di fronte alla legge e tutti hanno diritto a manifestare in ogni modo il il loro pensiero e quindi di dire quello che pensano di scrivere quello che pensano di pubblicizzare in tutti i modi possibili il loro pensiero questa libertà non è soltanto una libertà di parola è una libertà di scelta di consumo si può scegliere se consumare un prodotto oppure un altro anche questa è libertà ed è anche questa un'arma che il consumatore ha che il cittadino ha ed è chiaro ed è chiaro che in un momento di crisi come questo io dico sempre consumiamo prodotti italiani consumiamo prodotti nostrani attenzione c'è tanta gente che rischia di perdere il lavoro cerchiamo di comprare il meno possibile prodotti importati poi naturalmente anche quello che importa prodotti quello che fa il rappresentante di prodotti importati ha un lavoro in italia e quindi dobbiamo stare attenti al nostro consumo ma nessuno può impedire al consumatore di fare le proprie scelte non so se è chiaro spero che sia chiaro perché se io vengo in qualche modo minacciato di non poter dire quello che penso e di avere delle come si chiamano rappresaglie di avere delle rappresaglie delle vendette delle reazioni in base a ciò che io dico nella mia diretta nella mia pagina facebook voi capite che questa cosa mi pesa questa questa cosa mi addolora questa cosa mi rende inquieto e questa cosa mi amareggia perché non è giusto è chiaro non è giusto io ho tutto il diritto di dire quello che voglio così come ciascuno ha il diritto di dire fare quello che vuole di fare un programma televisivo e impostarlo come vuole eccetera chi lo imposta in un certo modo ha il diritto di farlo chi lo guarda ha il diritto di criticarlo è chiaro e quindi io per questa ragione e per queste altre pressioni di altro tipo che ho ricevuto nella giornata di ieri ero particolarmente amareggiato e mi pare che si continui a fare questo gioco al massacro perché poi ieri De Magistris è andato all'aria che tira io non sono andato perché si è scelto così la comunicazione nostra ha scelto di non andare e anche questa è una una politica è una tattica io non dico assolutamente che dobbiamo andare sempre io io penso sempre sono sempre stato convinto che ci vada qualcuno del movimento è giusto ieri mattina c'era ad agora Ettore Liccheri per esempio il nostro portavoce sardo al senato Ettore Liccheri è una persona valida quando Ettore Liccheri va a in tv devo dire che se la cava e quindi io credo che sia meglio avere Ettore Liccheri credo che sia meglio anche avere Dino Giarrusso che non avere nessuno però questa è una mia opinione può anche essere sbagliata però cosa è successo che per nesia volta ieri De Magistris è andato da Mirta Merlino e ha detto ha ricostruito lui senza controparte inaudita altera parte come dicevano i latini ha deciso arbitrariamente che Di Matteo avesse chiamato perché l'ho tirato in causa io l'ha scritto Repubblica lo ha scritto Sandra Murri su TPI l'ho scritto Antimafia 2000 sono calunnie per me lo capite ma non sarebbe grave se fosse vero però non è vero io ho tutta la possibilità di dimostrare che non è vero non so se è chiaro e questo francamente ha la mia pazienza ha un limite la mia pazienza ha un limite mi auguro che voi abbiate capito di che cosa sto parlando allora c'è un altro problema purtroppo all'interno del Movimento 5 Stelle ed è quello per cui c'è un problema grosso e quello per cui abbiamo alcuni portavoce che stanno abbandonando il Movimento anche alcune persone storiche del Movimento oggi è stata la volta di Alice Salvatore io ho visto un pezzettino della conferenza stampa di Alice Salvatore che aveva vinto le parlamentarie per essere la candidata alla regione Liguria poi c'era stato un voto su Rousseau per fare un accordo con altre forze politiche per cercare di vincere la Liguria e strapparla al centrodestra un voto su Rousseau che aveva visto i sì prevalere di poco e Alice Salvatore a che ne sappia io anche in seguito a questo voto ha deciso di non candidarsi più a presidente e addirittura adesso di lasciare il Movimento 5 Stelle oggi ho visto la presentazione di un suo movimento perché parlo di questo perché non è una buona notizia per noi cioè quando qualcuno lascia il Movimento o anche quando qualcuno di storico viene espulso vedete quando uno viene espulso c'è una ragione perché non ci si non si può essere espulsi senza ragione quindi chi viene espulso ha sicuramente commesso degli errori poi può fare ricorso i propri vidi possono essere severi come dire leggeri permissivi questo è un altro discorso però certamente l'espulsione è un conto ma quando qualcuno abbandona il Movimento voi dovete capire quanto sia problematico questo perché significa che qualcosa non ha funzionato significa c'è qualcuno che non crede più al Movimento per com'era significa tante cose negative che dobbiamo combattere in tutti i modi ragazzi io vi ho parlato della mia vicenda di Giletti di di Matteo di Magistris e di queste calunnie ma sono piccole cose qui la questione è molto più grande ci sono due questioni in ballo una è quella dei soldi dei soldi che arrivano all'Italia dall'Europa e dei soldi che l'Italia dovrà investire anche soldi propri per ricostruire dopo il coronavirus si tratta di centinaia di miliardi di euro probabilmente si arriverà a una leva fiscale come ha annunciato il presidente conte di 750 miliardi di euro credo che corrisponda quasi al al 40 50 per cento del pil italiano in un momento di drammatico calo perché il coronavirus purtroppo ci ha stroncato centinaia di migliaia anzi milioni di attività e quindi il pil è in grosso calo come è normale purtroppo sperando che passi presto l'emergenza allora nel momento in cui arrivano da gestire centinaia di miliardi di euro che devono essere gestiti da una classe dirigente da una classe politica quindi anche da un governo gestiti deve essere fatta una vigilanza su chi li gestisce è chiaro che i vecchi ladroni i vecchi avvoltoi i vecchi sciacalli stanno tutti lì e vorrebbero far cadere conte e vorrebbero far cadere conte per gestire in autonomia senza questo signore questo nuovo personaggio che ha un po rotto i piani di chi pensava che il movimento 5 stelle fosse un fuoco di paglia perché chi pensava che il movimento 5 stelle fosse un fuoco di paglia ora in grande difficoltà perché il movimento 5 stelle ha espresso un presidente peraltro non iscritto quindi diciamo un presidente laico fra virgolette ma voluto fortemente dal movimento era ministro nel governo dei sogni sarebbe stato ministro ha espresso un presidente che si sta rivelando il migliore degli ultimi 30 anni e gli italiani hanno fiducia in lui allora qual è la paura dei soliti noti dei soliti vecchi della vecchia classe dirigente della vecchia classe politica la paura è se rimane conte a gestire queste centinaia di miliardi noi restiamo a bocca asciutta per noi non ci sarà nulla e questo è un problema e questo è un problema enorme perché nel momento in cui noi avremmo la diciamo se qualcuno per intenderci se qualcuno vuol far cadere il governo perché poi vuole andare a spupazzarsi quelle centinaia di miliardi di euro noi lo dobbiamo impedire e noi lo possiamo impedire in un modo solo facendo un moto di opinione fortissima a sostegno di giuseppe conte e del suo governo e del movimento 5 stelle fortissima e capisco i critici capisco quelli che non sono del tutto soddisfatti capisco che nel governo dei nostri sogni le cose erano molto migliori di quelle che sono state fatte ok vi capisco sono il primo delle volte ad essere molto critico ad essere anche molto incazzato su alcune scelte che si fanno però ragazzi attenzione stiamo tenendo duro stiamo tenendo duro su tante cose la bellanova voleva fare un certo tipo di ragionamento noi l'abbiamo sistemato perché se no c'è il rischio di fare una sorta di sanatoria non insensata invece così la cosa funziona molto meglio il reddito di cittadinanza rimane il reddito di emergenza ci sarà la riforma della prescrizione è stata fatta lo spazza corrotto è stato fatto ed è per questo che si attacca alfonso buonafede questo dualismo inventato fra di matteo e buonafede è tutto incentrato sul desiderio di fare cadere alfonso buonafede per avere un ministro della giustizia più morbido più malleabile e più vicino a chi gestiva la giustizia nel modo vecchio no rispondo alla domanda di flavio che ho letto tu pensi che mattarella conte se mattarella glielo chiede non farebbe un governo con chiunque prima di tutto penso di no secondo penso che non mi non mi interessa quello che farebbe conte mi interessa quello che succederebbe ragazzi perché già oggi e ieri nel primo governo conte con il contratto con la lega e oggi nel secondo governo conte con diciamo questo accordo politico di governo con pd e leu poi pd si è scisso nel frattempo noi già dobbiamo faticare moltissimo perché sulle nomine abbiamo dovuto ingoiare dei rospi è inutile che ce lo nascondiamo io come vedete non mi nascondo dietro un dito non faccio lo yes man sulle nomine abbiamo dovuto ingoiare dei rospi è chiaro abbiamo sulla rai allora quando c'era la lega abbiamo toppato non siamo stati abbastanza efficaci se fossimo stati da soli avremmo deciso noi in autonomia saremmo stati molto più efficaci a cambiare le cose in rai a fare finalmente servizio pubblico obiettivo non rai 5 stelle perché sarebbe sbagliato se qualcuno pensa di fare una rai a 5 stelle un servizio pubblico nostro è la cosa più sbagliata che esista il servizio pubblico deve essere obiettivo il problema è che in italia è esattamente il contrario ed è talmente partitizzata la rai talmente lottizzata talmente storicamente lottizzata che è difficilissimo anche trovare dei professionisti che non siano marchiati da quella o da quell'altra forza politica lo capite questo lo capite a che livello di barbarie è arrivato la gestione del rapporto in italia fra politica e informazione a questo livello e vi dico molto chiaramente molto chiaramente io ho parlato di due problemi uno è quello dei soldi che chi aspira a sostituire conte si vuole gestire nella massima libertà per tenersi possibilmente sapete com'è quando c'è ci sono dei politici degli amministratori pubblici che quando gestiscono i soldi vedete figlio mio portafoglio prendiamo 20 euro vediamo ce l'abbiamo 20 euro eccoli qua ci sono quelli a cui questi 20 euro rimangono sempre appiccicati alle mani ci sono quelli che li da li prendono dallo stato e li danno all'imprenditore al cittadino poi c'è quel tipo di politici che poi i soldi li rimangono appiccicati alle mani vedi incastrati e poi si rimettono in tasca ok questo è la prima paura che io e per questo si sta giocando al massacro e tentando in tutti i modi di fare finire l'esperienza di conte la seconda paura il secondo problema il secondo dramma italiano è il rapporto fra politica e informazione fra politica e televisione fra politica e grandi giornali perché non può continuare questo andazzo che sta avvelenando il dibattito che sta creando pensate al solo al giro di direttori che c'è stato fra la stampa e la repubblica affinton post quando la fiat ha diciamo deciso di prendere la maggioranza quindi di fatto di comprare il controllo di queste tre testate immediatamente hanno cambiato direttori hanno cambiato linea editoriale hanno cambiato atteggiamento si sono spostati a destra per chi non l'avesse capito lo posso dire o mi minacceranno anche di questo mi faranno un articolo contro domani o lo posso dire che si è spostato a destra l'asse di quelli che una volta erano i giornali di benedetti e oggi sono della fiat io non voglio che si sposti verso i 5 stelle io voglio che si sposti verso il lettore verso il cittadino voglio che ci sia obiettività io mi incazzo col fatto quotidiano che per la seconda volta ha scritto una cosa sbagliata mi incazzo fortemente non è che mi arrabbio mi incazzo mi girano i coglioni però io lo so che marco travaglio se sbaglia lo fa in buona fede perché una persona per bene ed è una persona indipendente di linea allora scusate ho ricevuto una telefonata e quindi si è interrotto il video spero che spero che riparta ripeto il fatto quotidiano lo porto a esempio non perché mi stia particolarmente simpatico quel giornalista quell'altro il direttore o quell'altro ma perché so perfettamente so perfettamente ci metto tutte e due le mani sul fuoco e ne ho buone ragioni che è un giornale indipendente dal potere politico e quindi quando dà una mazzata in testa a noi lo fa in buona fede e non si inventa una cazzata per per attaccarci e quando racconta la miseria di altri partiti che hanno al loro interno indagati per mafia arrestati che non vengono espulsi personaggi ambigui tangentisti e merda lo fa senza preoccuparsene invece se noi continuiamo a fare finta di non sapere che c'è questo rapporto perverso fra l'informazione la comunicazione mainstream in particolare grandi giornali grandi network televisivi e partiti politici vecchi partiti noi non ne usciamo vivi e a me mi girano i coglioni di ricevere le pressioni perché io dico questo dico quell'altro io posso io devo poter dire quello che voglio se poi non mi piace la mia presenza non mi invitate non mi intervistate non mi interessa ma non dovete pensare che siccome ho detto quello allora meglio no già russo no perché questa è la più infa è la cosa proprio che qualifica allora il sistema e mi auguro davvero mi auguro davvero che non sia così mi auguro davvero che in futuro non sarà così perché ci sarebbe da raccontare delle cose molto pesanti se questo succedesse davvero allora parliamo un po di cose si monica monica io penso che il fatto quotidiano sia in assoluta buona fede saluto lorenza miramonti allora parliamo un po di quello che c'è nel decreto nel decreto rilancio ci sono tante cose interessanti parliamo del bonus edilizia sperando che possa essere confermato per come è previsto abbiamo per quel che riguarda il risparmio energetico rifacimento delle facciate il fotovoltaico un intervento interventi con sconto del 100 per cento in fattura che cosa significa addirittura si parla del 110 per cento significa che non si paga cioè che lo stesso imprenditore la stessa impresa che ci fa a noi i lavori a casa per esempio che ci mette i pannelli solari per fare il fotovoltaico e noi abbiamo quindi un'energia che costa molto poco perché la autoproduciamo con i pannelli solari noi quell'impresa non la paghiamo proprio è la stessa impresa che sconta in banca il buono che gli paga lo stato chiaramente bisogna fare tutto corretto le ricevute l'iva pagare gli operai bisogna fare le cose perché noi abbiamo questo problema del lavoro in nero che in italia ha è una piaga terrificante ma se si fa tutto in regola si ha l'intera cifra ok e quindi lo si ha direttamente cioè non è che si paga e poi si ha un rimborso questo per quel che riguarda ristrutturazioni legate al risparmio energetico rifacimento delle facciate e fotovoltaico ci sarà un aiuto per tutte le aziende le imprese che hanno problemi per il pagamento dello stipendio e si arriverà alle aziende che che per una crisi economica dovuta al coronavirus dovrebbero licenziare perché non hanno lavoro l'azienda che rinuncia a licenziare rispetto a un piano di diciamo di ristrutturazione aziendale dovuta alla crisi l'azienda che rinunciasse a licenziare avrebbe un contributo pare all'ottanta per cento dei salari cioè se io ho cinque operai e li pago duemila duemila euro al mese e dovessi licenziarli avesse in mente di licenziarli a causa del coronavirus ebbene se non li licenzio e me li tengo lo stato gli pagherebbe di quei duemila euro mille seicento euro al mese cioè l'ottanta per cento al padrone al padrone dell'industria al proprietario al datore di lavoro resterebbe soltanto il venti per cento di stipendio da pagare questo è un altro dei provvedimenti previsti dal decreto bilancio poi ci sono come ho detto i contributi a fondo perduto che riguardano 20 per cento di contributi a fondo perduto fino a una certa soglia 15 per cento oltre quella soglia 10 per cento fino a 5 milioni di euro poi è zero perché chi fattura ancora di più diciamo può stare sulle sue può dire può camminare sulle sue gambe ci sarà il credito vacanza è pensato probabilmente anche quello direttamente con uno sconto in fattura cioè si va in hotel si va in spiaggia si va a si compra un pacchetto vacanze in italia per esempio una persona della toscana che vuole venire a pachino che vuole andare alle olie che vuole andare a taormina giardini ad acitrezza ad al ghero dove vi pare a porto torres ci va si fa un pacchetto e lo stato gli paga quella vacanza fino a una certa cifra naturalmente direttamente in fattura questo in modo diciamo si avrà come un voucher questo è un modo per evitare la crisi il crollo del turismo è anche un modo per cui io mi auguro che tanti italiani non rinunciano alle vacanze naturalmente rispettando quelle che saranno gli obblighi di sicurezza da qui a luglio ad agosto e che lo faccia però in italia io vi invito davvero a consumare italiano e a rimanere in vacanza in italia ci sono posti meravigliosi ho fatto alcuni esempi di alcune località siciliane sarde ma insomma ce ne abbiamo in tutta la penisola sia posti di mare che di montagna che borghi che luoghi patrimonio artistico insomma città d'arte abbiamo l'imbarazzo della scelta abbiamo l'umbria abbiamo la calabria abbiamo la basilicata che è bellissima abbiamo la sicilia naturalmente con le sue isole minori abbiamo abbiamo la sardegna la toscana la puglia e tutte le regioni e ciascuna regione merita una visita e merita attenzione anche il piccolo molise di cui pochi parlano ha un pezzettino di mare molto molto bello di fronte alle isole tremiti vicino alle isole tremiti poi bollette per le piccole imprese ci sarà un taglio delle voci accessori è un rimborso e sono interessati ben 3,7 milioni di imprese quindi una quantità enorme di imprese perché buona parte delle imprese italiane sono piccole imprese ripeto bollette voci accessori l'italia diciamo lo stato darà una grande mano dovrebbe essere cancellata la rata irap del 2020 cancellata cioè zero sto parlando di progetto poi vedremo il testo definitivo cassa integrazione altre nove settimane se le regioni si smuovono perché poi come ha dimostrato ieri un sindaco l'avete visto quel sindaco che è venuto in bici dal piemonte fino a roma per parlare col presidente conte protestare perché non gli arrivava la cassa integrazione è arrivato a roma e il presidente conte gli ha spiegato caro sindaco lo sai perché non ti arriva perché la regione piemonte guidata dal leghista cirio è lenta e non sta non sta funzionando a dovere come la regione sicilia con musumeci come la regione sardegna con solinas come la tante altre regioni d'italia la calabria con la santelli eccetera e quindi la cassa integrazione verrebbe assicurata per altre nove settimane quindi quasi tre mesi due mesi e mezzo ma se le regioni dipende dalle regioni cioè la regione deve scontare la sua deve fare la sua parte poi il bonus di 600 euro sarà reiterato ad aprile e diventano mille a maggio sono altri mille euro il reddito di emergenza per chi ha un ise corrente sotto i 15 mila euro ripeto fatevi lise corrente ieri mi hanno scritto anche alcuni amici lise corrente significa andate dal commercialista al caff dove volete voi vi fate fare lise corrente ok chi lo ha inferiore a 15 mila euro ha la possibilità di avere il reddito di emergenza per una cifra che andrà tra i 400 e gli 800 euro al mese per tre mesi quindi in media saranno 600 euro al mese per tre mesi questo sarà il reddito di emergenza che non è il reddito di cittadinanza e abbraccia una platea molto più ampia quindi fatevi fare lise corrente preparatevi a fare la domanda per il reddito di emergenza per le colf e le badanti ci sarà un bonus di 500 euro per due mesi a patto che non siano conviventi con l'assistito a patto che non siano conviventi con l'assistito bonus di 500 euro al mese per due mesi per i genitori che hanno figli inferiori ai 12 anni ci sarà la proroga del congedo dal lavoro oppure un bonus babysitter da 1200 euro il bonus edilizia vi ho spiegato si si cede direttamente un credito cioè non si pagano i lavori si cede il credito che poi la la società la ditta che ci ha fatto i lavori va a scontare direttamente quindi non si pagano proprio le tasse di aprile maggio giugno 2020 vengono tutte rinviate a settembre e si potranno anche rateizzare infine tutti gli accertamenti fiscali vengono rinviati al 2021 vi ho fatto rapidamente un rapidissimo come posso dire put purri di quelle che saranno le più importanti le più importanti i più importanti strumenti con i quali si cercherà di aiutare nel decreto rilancio appunto l'italia che deve ripartire allora faccio le ultime due cose poi rispondo alle vostre domande purtroppo si sono inseriti troll mi scrive anna maria vella anna maria io non sto guardando quindi se si inseriscono i troll e dico buonanotte vedo che invece si è inserito anche il mio amico ed ex mio collega luca ciliberti che lavora a telecolor in sicilia e ci saranno misure per i disabili si daniela petrelli assolutamente sì e ti chiedo appena ne avrò contezza ti vi rigirerò magari domani se riesco grazie nino rossi grazie a marzia di paola rosario patanè allora dobbiamo essere chiari su una cosa per chiudere il discorso che ho fatto all'inizio ho parlato di televisione ho parlato di dell'impressione dell'impatto che ha su uno spettatore eccetera eccetera però attenzione parliamo anche di della querelle di matteo bonafede ragazzi io lo dico per l'ennesima volta mi dispiace perché perché magari qualcuno pensa che dico sempre le stesse cose però è importante dirlo perché a me continuano ad arrivare messaggi di gente che dice che attacca di matteo o che attacca bonafede addirittura di qualcuno che dice me ne vado dal movimento perché non abbiamo difeso di matteo oppure me ne vado dal movimento perché non abbiamo difeso bonafede abbastanza ragazzi non esiste questo ragionamento è esattamente ciò che vogliono le forze della restaurazione che stanno cercando in tutti i modi di tornare in di riprendersi il paese lo capite questo tutti quelli di voi che prendono il reddito di cittadinanza lo sanno che se torna al governo una determinata forza il reddito non ci sarà più tutti quelli che sono soddisfatti perché c'è lo spazza corrotti lo sapete che se tornano al potere partiti pieni zeppi di corrotti cancelleranno lo spazza corrotti magari ci diranno poi sui giornali che no abbiamo aggravato anzi abbiamo fatto una legge più severa e nessuno pagherà nessuna sanzione e nella costituzione la certezza della pena è prevista esattamente come le garanzie per l'imputato certezza della pena e garanzie per l'imputato innocenza fino a sentenza definitiva e certezza della pena post sentenza definitiva sono la stessa cosa sono la stessa la stessa medaglia le due facce davvero della stessa identica medaglia perché nessuno deve essere perlomeno giudicato penalmente politicamente sì penalmente fino a sentenza definitiva ma una volta che la sentenza è definitiva se sei colpevole sei colpevole e devi scontare una pena devi pagare una sanzione alla società possibilmente una pena rieducativa su questo siamo perfettamente d'accordo ma ci deve essere perché sennò converrà delinquere e se in italia molti delinquono è perché in italia proprio perché non c'è certezza della pena ma spesso si riesce a scapolare dalle condanne molte persone scelgono di delinquere scelgono di evadere il fisco scelgono di farsi le sedi fiscali nei paesi più assurdi l'olanda l'illussemburgo l'ichtenstein andorra malta le isole caiman perché perché così non pagano le tasse e noi lavoratori paghiamo sia i liberi professionisti che i dipendenti che i pensionati abbiamo livelli di tasse clamorose e poi le grandi aziende con i miliardi di euro di fatturato fanno ste scatole cinesi si fanno le sedi fiscali un po qua un po là poi questa è controllata da quell'altra società che sta alle caiman che poi controlla a sua volta al 100 per cento quella singapore che poi sta in lussemburgo e alla fine non pagano tasse o ne pagano pochissime e in percentuale paga più tasse un lavoratore da mille euro al mese magari di un grande imprenditore miliardario questo lo dobbiamo proibire ma è chiaro che l'arrivo del movimento le lotte contro i paradisi fiscali le lotte contro le localizzazioni dovute al decreto dignità finalmente le stiamo potendo fare ma io ve lo dico subito quando qualcun altro tornerà al governo io credo che queste lotte verranno in tutti i modi azzerate o comunque rese molto più morbide molto più difficili lo capite questo perché se l'italia è andata fino a un certo punto in una direzione perché la volontà politica era di mandarla là noi abbiamo cercato di sterzare di cambiare direzione ma ci abbiamo forze che ci portano ci tirano di là e noi cerchiamo di andare di qua lo capite questo cioè non è difficile è evidente è evidente purtroppo e io quando qualcuno mi fa la mozione di sfiducia a bonafede io vi chiedo anche le persone che sono deluse che dicono no però bonafede ha sbagliato con di matteo ma ragazzi ma secondo voi come mai berlusconi salvini e meloni giusto fanno una mozione di sfiducia a bonafede ma ve lo ricordate che ha fatto l'anticorruzione sì che ha cambiato la legge sulla prescrizione sì che ha cambiato la legge sulle intercettazioni sì che ha lottato per quelle leggi che è stato un ministro della giustizia autorevole che ha smesso di cedere ad alcune pressioni di alcune lobby per esempio di alcuni avvocati lo capite che sulla resistenza dietro il cambiamento della prescrizione si gioca una fetta di storia d'italia futura ma anche passata futura ma anche passata andreotti berlusconi tutti quelli che si sono avvalsi della prescrizione malio messina lo capite questo lo capite simbolicamente quanto pesa la poltrona di alfonso bonafede simbolicamente lo capite quanto pesa la poltrona di alfonso bonafede e perché lo dobbiamo difendere in tutti i modi poi possiamo pure criticarlo come tutti ma dobbiamo difendere la sua presenza al ministero perché è stato il ministro del cambiamento è chiaro e noi in quella poltrona abbiamo avuto mastella abbiamo avuto gava abbiamo avuto alfano abbiamo avuto personaggi in faccio fatica pure a ricordarmi è chiaro e noi oggi abbiamo qualcuno che con fatica con difficoltà anche perché hanno fatto una legge elettorale che non ci ha dato la maggioranza con grande difficoltà sta cercando di cambiare l'italia sta cercando di cambiare l'italia da quella posizione di ministro della giustizia e noi dobbiamo aiutarlo questo io penso lo penso fortemente proprio perché sto con di matteo proprio perché sto con di matteo difendo bonafede lo capite perché l'azione politica di di matteo ministro è esattamente in linea con l'azione che storicamente il magistrato dottor nino di matteo ha fatto nella sua carriera e non si sono capiti sul dap e hanno avuto un diverbio e non si sono accordati e bonafede non lo hanno nominato il dap bene è un problema non è un problema ragazzi l'azione politica di alfonso bonafede da quando il ministro va esattamente nella strada tracciata dal dottor di matteo in qualità di magistrato va in quella stessa direzione la lotta alla corruzione la lotta alle mafie e quindi non ci facciamo fottere da chi ci vuol tifosi dell'uno o dell'altro non ci facciamo fottere perché poi è doloroso è chiaro quello che può succedere ok ragazzi infine sì perché me lo avete chiesto in tanti c'è la possibilità per i percettori di reddito di lavorare nei campi noi stiamo aspettando da parte degli esperti le le indicazioni sulle misure di sicurezza per il lavoro nei campi per la raccolta soprattutto per evitare che i raccolti vadano distrutti e per far sì che chi lavora nei campi che sia un bracciante storicamente o che sia un percettore di reddito di cittadinanza che si presta al lavoro di bracciante cosa possibilissima lo faccia in sicurezza come in tutti gli altri settori dal bar ai ristoranti avete vista quella cappellata che hanno scritto sulla stampa di torino dice bisogna stare in quattro metri quadrati e quindi un quadrato di quattro metri di lato i competenti grandi giornaloni italiani grandi giornalisti una cosa quadrato di quattro metri per lato siano 16 metri quadrati e non quattro credo che lo sappia anche un bambino di quinta elementare eppure sulla stampa di torino si parla di quattro metri quadrati e poi si disegna un quadrato con una persona in mezzo e ogni lato è di quattro metri e quindi in realtà sono 16 metri quadrati quindi quattro quadrati da 16 metri quadrati d'uno farebbe 64 metri quadrati insomma una dimensione piuttosto grande per metterci quattro persone soltanto io sorrido perché mi sono già arrabbiato prima allora secondo me basta facebook per combattere contro questi personaggi no bisogna tornare per strada e fare lotta politica cara rino no rino cala rino è il nome quindi immagino rino cala caro rino io da quando sono stato eletto grazie alla vostra fiducia al vostro voto qui al parlamento europeo ho dedicato tutto il mio tempo libero tutti i miei weekend al rapporto con gli attivisti sui territori non a casa mia sono stato in oltre 150 mi sembra 138 non mi ricordo se eravamo a 148 138 quasi 150 comuni della sicilia e della sardegna a incontrare i cittadini a incontrare gli attivisti a incontrare gli imprenditori a incontrare gli imprenditori agricoli a incontrare i pescatori e ci voglio tornare ma siccome c'è il coronavirus e sono bloccato qui a bruxelles da due mesi finora negli ultimi due mesi mi sono rapportato con voi tramite le dirette tramite facebook tramite le risposte però ti assicuro che penso esattamente come te che non basti la rete bisogna comunicare in rete bisogna comunicare nelle piazze bisogna parlare con i cittadini portargli risposte portargli aiuti portargli proposte e poi farlo in tv e poi farlo sui giornali e poi farlo dappertutto bisogna combattere una finta narrazione della realtà ed essere presenti sui territori allora mettere in regola i lavoratori francesco paolo lauriola giustamente dice non solo in sicurezza anche in regola da un punto di vista fiscale certo francesco l'ho detto prima non so se è ricollesso se non abbiamo una regolarizzazione di tutte le professioni in italia e continuiamo ad avere grandi sacche di lavoro nero noi andiamo a morire è un paese che va a morire se non ci come dire se non cambiamo questo problema perché non sono sai qualche lavoratore qualche milione di euro sottratto al fisco no sono centinaia di miliardi di euro che sfuggono alla al fisco che sfuggono all'economia diciamo reale viene chiamata economia sommersa quella lì del lavoro nero ma non è sommersa è un'economia parallela che alimenta le mafie che alimenta il malaffare che aiuta lo sfruttamento dei lavoratori che fa alzare le tasse a chi le tasse le paga perché chi lavora in nero chi offre lavoro nero non paga tasse voi capite quanto di tutto questo sia tutto connesso quando poi la benzina costa troppo quando poi il ticket di un farmaco vi costa troppo quando poi le tasse scolastiche le tasse universitari sono molto alte e anche perché c'è tutto questo lavoro nero che sfugge al controllo dello stato e che peraltro penalizza nel 90 per cento di casi i lavoratori perché il lavoratore viene sfruttato perché il datore di lavoro finché il lavoro è nero può offrire anche due euro l'ora anche un euro l'ora anche tre euro l'ora può rendere quasi schiavi in posizione di quasi schiavitù e il lavoratore e fa concorrenza sleale al datore di lavoro corretto questo purtroppo in agricoltura è un problema non solo lì il datore di lavoro corretto che ha per esempio un ristorante e mette in regola i ragazzi mette in regola il cuoco i cuochi i camerieri chi fa le pulizie tutti li mette tutti in regola ha una massa di stipendi da pagare più alta perché paga tutte le tasse ok noi dobbiamo premiarlo quel ristoratore lì onesto se accanto c'è un altro ristorante che ha lo stesso numero di lavoro termine sono in nero e non paga le tasse quell'altro ristorante può fare prezzi un po più bassi e fa concorrenza sleale a quello che è in regola noi dobbiamo puntare a una totale trasparenza dei rapporti lavorativi perché se così fosse le tasse sarebbero molto più basse non poco molto più basse e quando qualcuno ha parlato di flat tax di tasse bassa io sono d'accordo ma sono d'accordo nel momento in cui ci assicuriamo che tutti paghino le tasse e chi non paga riceve sanzioni severissime chi non paga chi elude chi mette le sedi altrove è chiaro chi si rifugia nei paradisi fiscali per intenderci margherita tamburrini il salario minimo orario ci si sta lavorando ci sta lavorando in italia ti do una bella notizia sta lavorando anche in europa è chiaro ci si sta lavorando anche in europa quello che fanno quelli che vogliono fare il cadere del governo mi ricordo chi l'ha scritto dice lo sanno che poi arriva draghi e la troica forse proprio per questo lo vogliono fare cadere proprio perché preferiscono draghi e preferiscono i tecnici preferiscono una cosa alla monti rispetto a un rivoluzionario da un punto di vista degli effetti come è conte chi è stato a farmi pressione mi sembra chiaro chi è stato a farmi pressione sono state delle persone che hanno detto beh non puoi comportarti così non puoi dire certe cose eccetera eccetera ma ripeto io ho le spalle abbastanza larghe ieri ero molto amareggiato anche oggi lo sono anche oggi ho paura per il mio futuro però sono qui vediamo che succede vediamo cosa succederà è chiaro allora se scendono le tasse le dovrebbero pagare tutti sì ciao liliana avrabie grazie ciao giovanni piras purtroppo salvatore maschari ha ragione la fiat ha spostato la sede fiscale in olanda è una cosa molto 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 brutta leonardo agrusti ti avevo scritto in lavoratori stagionali non del turismo che hanno i 600 euro chi sta interessando io mi sto interessando leonardo stiamo cercando di far arrivare degli aiuti ai lavoratori stagionali perché sono la categoria che più ha pagato il loro contratto anomalo che non sono né a tempo determinato né in terminato hanno questo contratto un po particolare e sono rimasti un po tagliati fuori da buona parte degli aiuti e questo naturalmente non è giusto dobbiamo aiutarvi devono essere aiutati come tutti la flat tax è ingiusta anche secondo me più che altro è anticostituzionale perché la flat tax sarebbe che anche chi guadagna un miliardo di euro e chi guadagna 10.000 euro pagherebbero la stessa aliquota sbagliato però si potrebbero avere meno aliquote e quindi aiutare gli imprenditori se tutti pagassero le tasse e aiutare anche i lavoratori ad avere una liquida molto più bassa è chiaro io non sono la flat tax ripeto in quanto tale piatta non si può fare perché la costituzione prevede la proporzionalità della tassazione rispetto al reddito lo prevede la costituzione però si possono creare meno scaglioni non so se è chiaro e comunque abbassare anche lo scaglione massimo ma prima pensiamo ad abbassare quello minimo e soprattutto facciamo sì che tutti paghino perché se tutti pagassero sarebbe più facile abbassare tutti gli scaglioni dibba cosa ha deciso rientra cara silvana mancini dovresti chiederlo a dibba io immagino di sì anche perché sendo rientrato in italia immagino che vorrà dare il suo contributo prezioso al movimento 5 stelle ciao ornella ghisu ciao rosa messina la verità fa male la vecchia politica sì lo penso assolutamente la commissione fake news mi chiede luciana gherardini penso che funzioni fino a un certo punto perché continuo a leggere molte fake news talvolta ne sono pure interessati grazie a leonardo di nuovo sebastiano rodelli 4 metri di distanza fra i tavoli per una piccola trattoria è la fine sono d'accordo con leonardo quindi mi auguro che si può che leonare con sebastiano chiedo scusa che è titolare di un bellissimo locale a tre castagni ed è giusto che si preoccupi del futuro del suo locale tra l'altro mi sembra una una distanza molto grande per cui in una piccola trattoria in una piccola pizzeria ci potrebbero essere solo due tre tavole a quel punto e forse non convorrebbe nemmeno aprire quindi stiamo molto 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 attenti dora mistretta perché si fanno più cose al nord che in sicilia nonostante io abbia votato 5 stelle perché dici più cose al nord che in sicilia dora in che senso se parli di regione purtroppo ci abbiamo musumeci il disastro dei disastri che da l'assessorato all'identità siciliana un leghista pensa un po' che leonora tutoli non capisco a cosa ti riferisci immagino che tu stia rispondendo a qualcun altro no no già già rodolfo domenici la lira in questo momento non risolverebbe purtroppo i nostri problemi anzi sarebbe debole sarebbe causa di ulteriori problemi perché avremmo delle degli attacchi speculativi molto forti se avessimo se ora tornassimo la lira e non se avessimo una vecchia lira di un certo tipo sarebbe diverso ma purtroppo non li puoi cancellare questi anni con questo euro con questo cambio non è che li puoi cancellare non è che le conseguenze non le puoi cancellare e quindi oggi diciamo avere una moneta propria a parte che è impossibile sarebbero tanti anni ma se anche fosse possibile con una magia con uno schiocco di dita ci creerebbe degli enormi problemi perché saremmo soli e subiremmo speculazioni monetarie gravissime rita genovese cosa ne penso della scelta dei musulmani di dare a un assessore leghista assessorato ne penso tutto il male possibile ne penso tutto il male possibile grazie lucia ciocchi cosa sta succedendo maria donna ruba nei 5 stelle una guerra che non so se la vinceremo io non voglio mai fare guerre interne non ne farò mai e spero che nessuno pensi di fare guerre interne nel movimento sarebbe la fine dobbiamo essere uniti possiamo avere diversità di vedute possiamo avere delusioni possiamo avere entusiasmi però sempre uniti siamo un'unica forza politica con delle diversità lo sai che gli sozzoni dell'inps mi ha basato di tante cittadinanza nel 2018 guadagnai 3000 euro in tutto l'anno alessandra il radio cittadinanza è calcolato su diciamo quello che ti spetta come minimo per diciamo per vivere dignitosamente sottratto quello che guadagni quindi se un anno guadagni di più eccetera cara valentina mattarella ti ringrazio molto per il tuo affetto cercherò di badare di più a me stesso anche io sono stanco anche io sono un essere umano anche io soffro anche psicologicamente delle volte quindi magari si vedono le tracce sulla mia faccia che ci posso fare niente ho pure i capelli lunghi come mattarella non vado dal barbiere da più di due mesi e quindi per fortuna c'ero andato pochi giorni prima dell'emergenza coronavirus se no avrei una massa di capelli così come quando ero a scuola come quando ero adolescente gli attacchi vengono dagli ex pentastellati passati al gruppo misto hai ragione davide andrea purtroppo è così ed è molto doloroso caro ivan abbate eliminare la burocrazia è giusto ma non bisogna eliminare i controlli e purtroppo una parte di burocrazia è malata e da eliminare una parte di burocrazia serve per i controlli quando c'è chi dice eliminiamo i controlli il certificato antimafia ma come eliminiamolo non lo possiamo eliminare è un è un adempimento burocratico ma è molto utile per avere ditte per avere per allontanare il più possibile ditte vicine alla mafia dagli appalti pubblici tanto per dirne una eugenia d'alterio sei un grande leggi il mio messaggio privato grazie grazie a te eugenia per i complimenti leggerò il tuo messaggio privato spero non mi sia sfuggito eventualmente riscrivimi adesso ero a 1200 messaggi indietro l'altro giorno ma ne abbiamo recuperati sono a credo due trecento messaggi indietro non c'è stato controllo hai ragione gianfranco gaia sull'euro giovanni grasso la signora si dice al ponte di genova è stato costituito subito invece in sicilia sono i ponti caduti che sono rimasti caduti attenzione è vero quello che dice allora ho capito quello che diceva la signora su sicilia sud nord però ricordatevi che ogni pezzo di autostrada ogni ponte ogni pezzo di strada pubblica ha un suo gestore e quello della liguria era diverso da quelli della sicilia la sicilia al dramma di essere una regione a statuto speciale governata malissimo dal punto di vista regionale e quindi buona parte di questi problemi derivano dalla pessima gestione regionale e quindi si è scelto di togliere alcune strade dalla diciamo dalla gestione di enti regionali e darle all'anas per cercare di accelerare la catania ragusa i ponti sulla catania palermo la palermo messina tutte tutte quelle strade utili che ci darebbero una grande mano che darebbero grande mano allo sviluppo della nostra economia che purtroppo però finora sono state totalmente trascurate mi sono rotta rotta queste tv stanno sotterrando sì sono d'accordo su si sarnataro dovremmo essere molto più reattivi nei confronti della tv saluto rosanna de feo gabriella grazie a tutti